Amici di Ghizzo bentornati oggi siamo con i Ray-Ban Meta anzi per la precisione Ray-Ban Meta Wayfarer quindi il modello più conosciuto Wayfarer sono proprio i Ray-Ban per eccezione li vedrete quelli neri in particolare questi sono neri opaco con il vetro polarizzato con graffite nero scuro però in più è una cosa che sono meta quindi diciamo si interfacciano con lo smartphone hanno delle videocamere integrate sui lati come ben sapete per in questo momento per riprendere foto e video e per usare i Ray-Ban per ascoltare la musica sono queste le funzioni quindi sono degli occhiali connessi smart che permettono di gestire i comandi vocali dicendo la parola e meta ma questo poi verrà ulteriormente amplificato quando arriverà la meta AI che in questo momento in Italia nel momento in cui facciamo il video non è presente ma l'abbiamo provato in inglese ed è bellissimo perché basta inquadrare una cosa e chiedere di cosa sto vedendo e lui fa una descrizione oppure anche tante indicazioni come di prassi per un'intelligenza artificiale l'acquisizione quindi doppia lente ultragrandangolare quindi con un formato diciamo tipicamente social e non stretto come nel primo caso dei Ray-Ban connessi i Ray-Ban metano due videocamere a 12 megapixel con un formato standard social quindi diciamo ultragrandangolare permettono di essere usati come auricolari perché nelle bacchette laterali incorporano gli speaker per ascoltare per ascoltare la musica gestire le telefonate e poi ovviamente ultimo ma non ultimo avendo delle videocamere si possono inviare dirette streaming registrare video e insomma sfruttando lo smartphone avere tutta produzione imaging diciamo degli occhiali questo in descrizione la scatola si presenza si presenta in questo modo qua quindi intanto compatibilità con made for iphone quindi è di fatto un prodotto made for iphone noi lo proveremo chiaramente con un iphone perché dove laddove si esprimono si esprimono meglio altre cose che si intuiscono dalla scatola eccolo qua da qui si c'è il modello il colore matte black quindi scuro opaco la lente polarizzata graffite in per la precisione il prezzo di questa versione che poi è presente anche in varie altre tonalità ma il prezzo di questa versione è 359 euro la trovate nei negozi specializzati quindi di occhiali fondamentalmente sullo store di online di lux ottica sullo store di meta ovviamente e secondo noi è un modello molto particolare uno ancor più particolare è dato dai ray bannuans che abbiamo visto in un altro video ma che anche in quel caso li danno un'idea di quanto lux ottica abbiamo avuto la fortuna entrare in ex lux ottica di parlare di vedere cosa succede dietro le quinte ecco l'utica su questa su questo concetto degli occhiali connessi sta facendo veramente grandi cose e vi assicuro che quando arriverà la laia che ho provato in inglese e sarà un cambiamento epocale nel frattempo io apro la scatola perché voglio farvi vedere intanto il fatto che è una scatola in carta quindi completamente reciclabile e sostenibilità è un altro tema forte che lux ottica ci tiene a sottolineare perché ogni cosa che c'è qua dentro può essere riciclata quindi la scatola in questo caso qua ci sono i manualetti solo farvi un po vedere era che facciamo così c'è una cosa un po grezza allora perché non riesco da qua sopra ecco questo il pannetto per pulire gli occhiali e poi ovviamente qua c'è eccolo qua il manualetto le poche indicazioni di partenza quindi dove scaricare l'applicazione e poi una cosa particolare questa è la custodia dove ci sono dentro ovviamente i raibam meta eccoli qua sono ovviamente con la carta per evitare che subiscano danni urti insomma che i bacchetti che sono poi la cosa più particolare perché l'elettronica è completamente integrata all'interno delle bacchette laterali quindi delle aste la cosa interessante che c'è anche una versione in color jeans dicono lo chiamano loro in color marrone chiaro particolare molto molto di moda che addirittura trasparente quindi dalle aste è possibile vedere i componenti che ci sono quell'interno e quindi che permette di far funzionare i microfoni che si possono individuare da questi buchi qua e gli speaker che sono qua i comandi poi sono anche al tocco lateralmente per gestire per esempio facendo scorrere il dito sull'asta laterale si può gestire il volume facendo un tap si può acquisire una foto ottenere premuto per acquisire un video oppure per chiaramente i metri di produzione la per mettere in stop la riproduzione musicale multimediale o per prendere o sganciarsi da da una telefonata il segreto comunque è completamente all'interno delle aste che poi vanno a concretizzarsi in questi due punti eccoli qua questi due elementi sono le due fotocamera 12 megapixel e c'è il led che si accende questi chiari sono passate cronache di recente per un evento che ci si chiede come sia possibile però questo è però vi faccio notare che quando siete modalità registrazione si accende un led bianco che indica proprio il fatto sul qui di lato che indica proprio il fatto che state registrando e quindi è impossibile non si conto che qualcuno sta registrando sono chiaramente con un design classico wayfarer quindi classico raiban in tutti gli effetti con le lenti polarizzate allora facendo un dettaglio ci sono i microfoni e qua c'è lo speaker con qua 12 rispetto ai primi raiban stories vi dico già che la qualità audio è migliorata è molto più bellutata molto più accurata nelle nelle sonorità meno meno sbilanciata molto più di qualità complessivamente il prodotto è una qualità nettamente diversa quindi della prima serie diciamo gli raiban meta hanno messo hanno permesso exor luxottica di mettere a frutto tutta una serie di know how per produrre per realizzare un prodotto che è davvero di altissima qualità non ha nulla da invidiare gli occhiali di fascia alta chiaramente raiban quindi mentre magari in quelli precedenti insomma dei dei bisogna abdicare un po a certe cose in questo caso no i speaker sono qua vi ho già detto sono anche abbastanza leggeri perché considerando comunque tutta l'elettronica che è che che è stata innestata nelle scusate nelle aste laterali comunque alla fine stiamo parlando di circa 150 grammi quindi è leggermente sostanzialmente uguale o poco superiore a un raiban normale vi do uno specifica sulle sulle fotocamere giusto per non lasciarla indietro vi ho detto che 12 megapixel quindi le immagini possono essere acquisite a 3024 per 4032 pixel i video mi hanno acquisiti in full hd a 30 fps notate la finitura polarizzata delle lenti si nota non so si notano in video ma dal vivo si nota orientandole perché vi ho detto la custodia di ricarica importante perché non è solo una custodia perché nella realtà dei fatti eccola qua si accende questo è il led perché a integra la porta usb c per ricaricare i raiban meta quindi basta inserirli ok qua si inseriscono e si ricaricano ora l'autonomia standard dei raibon meta intorno ai 5 alle 5 ore la custodia li ricarica fino a otto volte il che vuol dire potete farvi tranquillamente un viaggio lungo quanto volete e non avere problemi di autonomia quando poi volete usarli per riprendere per fare foto per far interagire con con lo smartphone anche perché magari durante sul viaggio in volo o sull'aereo non credo che li teniate accesi comunque insomma per cinque ore di fila potete 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 lavorarci poi li ricaricate e poi ci lavorate per otto volte al coro di fila quindi insomma ne avete da 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 farne di foto di filmatico ero ammeta che che coprite l'intero viaggio e vi ripeto il modello preciso era scritto sulla confezione giusto il rw44006 quindi 4006 ok questo perché ci sono vari modelli sul sito sia di meta sia di raiban quindi per dare un indicazione precisa di quello che è il modello la configurazione è semplicissima si prende l'applicazione si vengono riconosciuti si abbinano e si iniziano usare in questo momento in italia ripeto li usate per gestire telefonate per gestire la riproduzione acustica quindi dei brani e per la registrazione di video o lo scatto fotografico o per lo streaming in diretta chiaramente inquadrando con 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 le due fotocamere la meta ai vi preannuncio questa cosa la meta ai aggiunge tantissime cose perché intanto anche ancora oggi già oggi anzi abbinandole allo smartphone sia le modalità di registrazione di perché possono essere tutte comandate dalla voce si attivano con la dicitura ei meta quindi comando vocale voi non vedete tirare fuori il telefonino ei meta dite registra scatta la foto prende la telefonata chiama classici comandi vocali e con la con la con la con la chiave ei meta quando arriverà la meta ai con ei meta avrete una vera e propria intelligenza artificiale interattiva che vi parla attraverso i due speaker qui di lato tra l'altro da notare che anche se ascoltate la musica e togliete gli occhiali le altre persone non sentono la vostra musica anche questo rispetto ai deban stories è stato fatto un lavoro notevole perché oltre a aver posizionato in maniera più vicina all'orecchio i due speaker i speaker sono esattamente direzionati sul vostro orecchio e quindi non disturbano intorno bene quando arriverà la ia questo ho letto proprio perché a questo punto il dialogo con la ia sarà esclusivo esclusivo fra voi e gli altri gli altri non sentiranno cosa vi dice la ia tramite gli speaker potete dire potete chiedere io per esempio ho chiesto qual è la pizzeria più vicina e mi ha indicato una serie di pizzerie nei dintorni sfrutta la connettività dello smartphone verso se dello smartphone di accesso ai dati ovviamente per cui mi ha dato il nome di una pizzeria che in quel momento era a pochi passi da da dove mi trovavo ho chiesto per esempio inquadra questa questa scena che era lo showroom di per esempio di exor lux ottica e mi ha attraverso le due le due fotocamere mi ha descritto cosa vedevo oppure un'altra cosa che ho provato a fare di inquadrare di dire e meta cosa sto vedendo stavo guardando un piatto di pasta con dei pomodori e del tonno e in inglese mi ha suggerito che posso cucinare una classica pasta con tonno e pomodori quindi oppure potete chiedere informazioni sui sui musei quando apre un museo quando quando apre un negozio quando quando c'è questa attività questo evento tutto quello che si può chiedere a una a un'intelligenza artificiale una sorta di ricerca direttamente dall'occhiale e peraltro vocale quindi anche andando in giro anche un po sottovoce vuole dire e meta che monumento è questo e in quel caso lì attraverso l'intelligenza artificiale vi dirà qualche informazione se lì che se chiaramente riconoscendo il monumento è un bel progetto vi sto raccontando il futuro che arriverà come aggiornamento su tutti gli occhiali raibam meta quindi tutti la riceveranno quando 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 meta potrà rilasciare la meta e quindi gente artificiale in italia e a quel punto si potrà usare non solo all'interno di social network facebook instagram e all'interno di whatsapp ma anche all'interno di raibam meta vi ricordo prezzo 359 euro a non mi dimentico di dirvi una cosa che questo qui è il modello con le lenti polarizzate poi sono lenti vari colori poi ci saranno anche i modelli che arriveranno con le lenti attive quindi che le lenti che cambiano colore in base alla 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 luce ambientale in più si possono mettere chiaramente le lenti quindi graduate e quindi potete far diventare questo modello qua o altri perché ci sono molti di modelli raibam meta con con vari design non solo i wayfarer potete usare la montatura per mettere le vostre lenti graduate sia da sole o da vista normale tradizionali trasparenti questo diventa la vostra montatura però connessa e in un futuro anche con la i 359 euro per questo modello occhiali da sole connessi raibam meta wayfarer ricordatevi di iscrivervi al canale youtube di gizmo puntiti ciao a tutti